In chiusura la pagina sportiva, il calcio, domani torna il campionato di Segevico nella non aggiornata del girone di andata e con l'anticipo del venerdì sera. Alle vetture infatti alla De Luca sarà di scena l'incontro tra Ascoli ed Virtus Entella. Sabato poi gran parte del programma a partire dalle 15 in contemporanea. Alboranea, Cosenza, Chievo, Trapani, Empoli, Salerditana, Perugia, Pescara, Benevento, Spezia, Juve, Stavia, Portenone, Cittadella, Crotone, Venezia e Livorno, Pisa. E poi il tutto si concluderà con il posticipo di domenica alle 21 tra Cremonese e Prosinone. E' tutto per l'edizione serale di Speciale News Web 24. Grazie per essere stati con noi anche oggi. La nostra informazione torna come sempre domani mattina alle 8.45 con Nuovo Giorno. Buon proseguimento di serata.